buongiorno ragazzi questa è la seconda lezione che facciamo a distanza visto che non possiamo vederci ma non vi preoccupate sicuramente fra qualche giorno ci rivedremo sono sicuro che non vedrete l'ora vero allora continuiamo un lavoro che abbiamo fatto abbiamo già iniziato in classe quello della descrizione di una persona qualche giorno fa vi ho dato due schemi che avete incollato sul quaderno e poi avete descritto il vostro compagno di banco oggi vi divertirete ad escrivere una persona la quale tenete particolarmente può essere un genitore un fratello o un amico l'importante è riportare più informazioni possibili per ottenere una descrizione completa vi ricordate questa scheda ce l'avete sul quaderno ve la metterò a anche sul sito così chi non ce l'ha o chi l'ha persa può averla di nuovo capelli come possono essere il viso vedete gli occhi la bocca e il corpo se questa persona è magra sottile longilinea come è vestito normalmente il carattere gli studi il lavoro che hobby a ricordate di riportare tutte le informazioni quindi presentiamo la persona chi è l'età che lavoro attività svolge se studente su un nostro compagno descrizione dell'aspetto fisico quindi l'altezza la corporatura il viso eccetera descrizione dell'abbigliamento che in genere usa o come vestito nel momento della descrizione l'analisi del carattere che portiamo qualche episodio dell'umore che solitamente a questa persona qualità difetti comportamenti eccetera per aiutarci possiamo ricorrere a vi ricordate questa scheda o meglio questa foto attiva la troviamo all'interno del sito in giochi online foto attive comunque vi metto il link per facilitarvi descrizione il viso cliccando qui sopra si apre e per averla a tutta pagina clicco qui ora ho tutte le informazioni che mi servono in relazione al viso quindi i capelli come possono essere la fronte ve la ricordate questa foto no gli occhi la bocca eccetera perfetto mi raccomando fate un bel lavoro divertitevi e chi vuole può mandarmi il lavoro in posta elettronica metterò il l'indirizzo diretto quello del sito scuola tua chiocciola hotmail punto it ve lo scrivo chi vuole può scrivere direttamente nel corpo delle mail il compito oppure allegare un file chi non può fa il compito normalmente sul quaderno e poi lo correggerò per chi me lo manda io lo correggerò e ve lo rimanderò in modo che poi possiate stamparlo incollato sul quaderno ok ragazzi salutatemi i vostri genitori alla prossima ciao